Allora, io sono Roberto Moscati e sono ancora collegato all'Università di Milano Bicocca, anche se in pensione, ma collaboro ancora con la direzione dell'Università e ho fatto una carriera accademica intervallata da un periodo di lavoro extrauniversitario. Mi sono laureato all'Università di Milano Cattolica e poi ho insegnato in altre università come Catania, Trieste e Statale di Milano e poi gli ultimi 18 anni in Bicocca e ho un interesse sostanzialmente per la formazione, l'istruzione e i sistemi educativi. Sono un sociologo e mi sono appunto laureato in Scienze Politiche, ma ho fatto la mia formazione prevalentemente in Sociologia, cominciando con il professore Franco Alberoni in Cattolica all'inizio degli anni Sessanta. In quel periodo, come studente negli ultimi anni della Facoltà di Scienze Politiche in Cattolica, ho conosciuto Licia Pinelli che per me e i miei colleghi, i miei compagni di studi, batteva tesi di laurea e articoli che cominciavamo a pubblicare nell'idea di fare una carriera appunto accademica. Ho conosciuto Licia e ho conosciuto Pino in conseguenza e sono diventato come tutti i miei colleghi che frequentavano quella casa, amico di Licia e di Pino e delle figlie, Silvia e Claudia, che allora erano bambine. Ho frequentato quella casa e ho cominciato a frequentare anche Pino fuori da quella casa per interessi comuni di tipo politico in senso lato, in particolare perché ero a quell'epoca obiettore di coscienza e partecipavo alle manifestazioni per la creazione di una legge per l'obiezione di coscienza il gruppo al quale facevo riferimento era quello del GAN, del gruppo di azione non violenta promosso da Aldo Capitini. alle manifestazioni per la richiesta di una legge partecipava anche Pino e con lui abbiamo fatto qualche manifestazione diciamo così non di massa, nel senso che eravamo pochissimi e eravamo ben visti dalla Questura perché facevamo manifestazioni non autorizzate che venivano gentilmente vietate e impedite dalla Polizia di Milano. ricordo in particolare una in un novembre credo del 62 in Piazza del Duomo, serata piovosissima eravamo in sei credo a manifestare e con tre cartelloni che chiedevano la legge sull'obiezione di coscienza. e siamo stati fermati e poi non portati nemmeno in Questura perché a un certo punto ci hanno fatto scendere dal cellulare e sono andato ad andare a casa. Insomma non era una cosa pericolosissima per l'ordine pubblico e però è stata una delle occasioni nelle quali ho avuto occasione di fare qualche cosa insieme a Pino con il quale peraltro abbiamo avuto molte occasioni di chiacchierata, discussione politica e non politica su qualunque argomento perché Pino era una persona che era interessato a 3000 cose non so cosa non fosse interessato ma certamente si poteva parlare con lui di tutto e in una maniera vivace diciamo cioè essendo una persona molto entusiasta molto ottimista molto positiva molto amante della vita dico queste cose che sono verificabili da chiunque l'abbia conosciuto in quell'epoca perché mi ha colpito dopo nella tragedia che è seguita cioè la sua morte l'affermazione di alcuni che hanno detto che poteva essersi suicidato allora è sicuro che poteva capitare di tutto a Pino Pinelli tranne quella di avere l'idea di suicidarsi per qualunque ragione al mondo cioè la persona, l'ultima persona che avrebbe fatto un tentativo di suicidio era lui perché era appunto quella persona che ho detto ed era una persona con la quale si poteva scherzare e discutere accapigliarsi e abbracciarsi e ridere nell'arco di mezz'ora e dunque ricordo appunto che andare a casa a casa a Pinelli all'epoca era non dico un divertimento ma era un piacere per chiunque di noi ci andasse tal che appunto con la scusa della produzione di un articolo battuto dalla Licia in realtà l'occasione era di restare lì a lungo e godere del clima e dell'atmosfera che c'era in quella famiglia dopodiché io sono andato via da Milano alla fine del 67 e sono stato due anni negli Stati Uniti ho perso l'occasione di partecipare a quella triste vicenda che si è compiuta con Piazza Fontana e il Pinelli suicidato che è stato suicidato quindi ho ripreso i contatti dopo con la famiglia quando sono tornato nel 70 e ho mantenuto poi i rapporti con Licia e con le ragazze il gruppo che si ritrovava a casa di Pino e Licia era un gruppo di giovani intellettuali sostanzialmente che avevano un'amministrazione sociale diversa che però erano uniti da appunto un interesse nei confronti della vita accademica e non avevano nessuna difficoltà a condividere amicizia, non occasioni superficiali ma amicizia di vita con persone che avevano un'origine sociale più modesta, diversa e con le quali peraltro c'erano occasioni di discussione, di condivisione o di dibattito di idee che venivano condivise e che rappresentavano una piattaforma naturale sulla base della quale si poteva condividere e discutere argomenti più diversi credo che quello fosse uno specifico di Casa Pinelli, se vuoi ma fosse anche abbastanza logicamente collegato con il clima che si viveva in quei periodi negli anni 60 a Milano ma credo altrove anche gli interessi politici in senso ampio o anche in senso stretto insomma l'impegno, l'interesse per la cosa pubblica diciamo in senso ampio era l'elemento che unificava e trasversalmente interessava le diversi strati sociali, le origini più culturali, le più diverse cioè era il bagaglio culturale, la base culturale che unificava persone di diversa origine e provenienza che trovavano gli interessi comuni su cui discutere questo era anche legato a un clima particolare di quegli anni che era un clima di grandissime aspettative e speranze per il futuro legate in vario modo a una situazione che oggi sembra quasi incredibile a ripensarci perché era una combinazione di speranze e aspettative di giustizia sociale e miglioramento economico sociale nello stesso tempo cioè la possibilità di una crescita comune del paese c'era stato il rilancio economico evidentemente l'uscita dagli anni 50 che erano anni difficili ma c'era questo clima di grandi aspettative e speranze che rappresentavano una base comune sulla quale si poteva discutere la direzione da far prendere alla tendenza generale però che ci fosse questa tendenza generale che creava ottimismo, fiducia nel futuro era sicuramente palpabile, era una caratteristica visibilissima che scavalcava le differenze sociali e le origini e anche le differenze politiche nel senso che si poteva discutere tranquillamente tra per esempio anarchici e non anarchici oddio, quelli non anarchici erano di sinistra diciamo così era difficile trovare qualcuno che non lo fosse ma anzi non lo si trovava ma la platea era molto ampia nel senso che le posizioni erano diverse c'erano i cattolici sociali e i non cattolici per esempio i laici completi insomma e c'erano diverse posizioni però unificate dall'interesse comune e la fiducia più o meno, diciamo pure, comune nella possibilità dello sviluppo e dell'evoluzione in positivo della società poi su come, perché e con quali percorsi si poteva dividere però c'era questa base comune e quindi trovai facilmente un anarchico come Pino Pinelli che frequentava persone delle più diverse origini e provenienze che avevano interessi comuni sui quali si poteva discutere ma che avevano relazioni con i quaderni rossi piuttosto che l'Università Cattolica piuttosto che altri gruppi politici quindi era un suo merito perché aveva una sua grande vivacità e volontà di conoscere, capire e farsi capire e convincere anche delle sue idee e gli altri però era anche all'interno di un clima di quel periodo che era molto utile e fertile insomma e produttivo da questo punto di vista dunque questo consentiva anche appunto una circolazione delle idee un arricchimento reciproco molto visibile molto intenso e denso la cosa si riversava appunto all'interno della casa Pinelli perché era il luogo dove era difficile essere seri da un certo punto di vista perché si scherzava moltissimo con Pino che era molto pronto allo scherzo ma era anche il luogo dove era facile discutere delle idee diverse e dove lì ci rappresentava il richiamo all'ordine se vuoi da un certo punto di vista nel senso che lei era la persona seria che diceva sì però bisogna fare queste cose sì però dovete rispettare i tempi sì però dovete darmi le cose cioè era quella che dava il quadro organizzativo della vita sia sua familiare e quella dei rapporti con il mondo esterno e quindi c'era questa pece di divisione di compiti tra i due insomma tra Pino e Licia e di un intreccio di questa dinamica che si veniva a creare tra questi due e con le figlie che venivano coinvolte come spettatrici direi soprattutto del teatro che veniva organizzato con la presenza degli astanti quando c'erano quelli che c'erano per cui mi ricordo che Bruno Manghi ogni tanto faceva finta di fare del pugilato con Pino per far divertire le ragazze e sostanzialmente per quello e così altre scenette organizzate che ti dicono però del clima che c'era che era un clima positivo un clima di convivenza felice seppure appunto nelle discussioni nei dibattiti nelle controversie oppure si possono dire diciamo i ideali che si potevano creare e questa è stata una cosa che ha caratterizzato tutti quelli che sono stati presenti in quelle occasioni per diversi anni sostanzialmente sì beh dunque sì devo dire che le notizie dall'Italia in quel periodo dunque in quel periodo io frequentavo il mondo accademico però ero andato a studiare negli Stati Uniti e in quel periodo in quell'ambiente l'interesse politico prevalente era legato alla guerra del Vietnam e alla fine della guerra del Vietnam quindi le manifestazioni erano sostanzialmente indirizzate in quel senso diciamo l'interesse per i movimenti sociali e studenteschi degli europei erano in qualche modo più influenzati dal periodo eclatante ma breve del maggio francese piuttosto che dagli altri movimenti italiani e tedeschi per dire e questo perché gli Stati Uniti erano più attenti a quello che succedeva in Francia dal punto di vista culturale diciamo dal punto di vista non culturale gli Stati Uniti non erano interessati a niente cioè niente che non fosse americano e quindi e questo credo che sia ancora adesso così è una costante e invece il mondo diciamo culturale accademico che è interessato e era interessato al mondo esterno però sostanzialmente aveva una maggiore attenzione voi alla Francia e all'Inghilterra che non agli altri paesi europei e quindi per dirti che quando io incautamente allora pensavo di aver fatto una grande sciocchezza rischiosissima ho chiesto alla biblioteca di Harvard di abbonarsi al manifesto e loro ho detto ah è interessante sì sì grazie che ce l'ha detto senz'altro faremo l'abbonamento poi ho detto ma guarda che stupido vado a fregarmi a dirgli che sono comunista insomma credendo dandomi molta più importanza di quello che non potevo avere perché figurati che non poteva fregare che uno fosse comunista anzi poi loro si davano grandi arie di essere aperti al mondo accademico a tutte le idee quindi rispettosi di chiunque eccetera io ho saputo della notizia di Piazza Fontana e poi della morte di Pino attraverso il Corriere della Sera che ho letto al Dipartimento di Italianistica di Harvard dove si andava a leggere i giornali italiani che non era facilissimo trovare altrove o che comunque arrivavano in ritardo che comunque costavano una cifra perché costavano tre volte o quattro volte quello che sarebbe costato il giornale in Italia e lì anzi mi ricordo che a fianco a me c'era Umberto Eco che leggeva le stesse notizie perché anche lui era lì non per studente come studente ma come docente e frequentava appunto lo stesso istituto di Italianistica perché conosceva probabilmente dei colleghi non lo so ma insomma comunque era lì anche lui a leggere i giornali e così abbiamo scambiato due parole proprio per il commento sterefatto insomma rispetto agli eventi però devo ammettere che ci fosse pochissima conoscenza di quello che avveniva in Italia anche dal punto di vista politico e quindi non è stata insomma non c'è stata molta occasione di parlarne anche se c'erano gruppi di sinistra di estrema sinistra nei vari università e anche le più prestigiose ma molto legati ai fatti interni e quindi all'elezione del presidente io sono arrivato che avevano che era da poco morto Robert Kennedy e c'era l'elezione appunto poi c'è stato il periodo di Johnson e poi quello di Nixon i miei colleghi studenti erano molto interessati a quello e alla guerra nel Vietnam perché c'è il rischio di andarci cioè di essere richiamati alle armi e poi perché appunto c'era tutto uno schieramento molto ricco nelle università contro la guerra e con molta partecipazione anche dei docenti eccetera per il resto era difficilissimo avere contatti e avere possibilità di scambiare idee se non con i propri colleghi per cui c'era un gruppo di italiani con i quali io mi incontravo e si parlava e si discuteva dei fatti italiani ma nell'opinione pubblica era praticamente impossibile avere delle risonanze dell'eco degli eventi in Europa e questo quindi mi ha tagliato insomma io ho avuto informazioni sia attraverso parenti attraverso mio fratello insomma ma non attraverso canali pubblici insomma ecco vabbè poi ti posso dire invece dopo al ritorno quando io sono ritornato ho ripreso i contatti ho trovato vabbè tanto le ragazze cresciute e l'alicia che lavorava insomma così che aveva superato almeno in parte il trauma iniziale e però ho vissuto poi un periodo a Roma incontravo molto saltuariamente quando venivo a Milano nei fini settimana e poi quando mi sono ristabilito definitivamente a Milano allora ho ripreso i contatti più stabili e devo dire che così ho avuto una grande fortuna se vuoi di recuperare il rapporto con Licia e con le le bambine diventate adulte e quindi sposate e con figli eccetera nel tempo perché perché la cosa forse che ha qualche significato e rilievo è che non è stato mai un periodo non c'è stato mai un momento di ricordo di come eravamo insomma non si è parlato mai direttamente dei fatti precedenti si è parlato della vita della vita che scorreva insomma quotidiana ma anche dal punto di vista diciamo privato personale ma non in termini diciamo nostalgico tristi recriminatori e quant'altro ma sempre molto sul come si vive non come eravamo ma come siamo insomma come si vive cosa si fa come si commentano i fatti del giorno gli eventi eccetera e questo questo che perché vabbè un po' perché vabbè l'alicia la si conosce e non è una è una una roccia che non non si lascia certo andare in ricordi tristanzuoli e non dimostra certo debolezze di nessun genere ma perché anche è ed era ed è una persona di grandi interessi di grande vitalità di grande capacità di riflessione e quindi e quindi parli con lei di tutte le cose che possono essere di qualche interesse e le figlie ha anche insomma quindi devo dire che in questo senso a distanza negli anni nei decenni ormai se si pensa che sono passati più di 50 anni però e quindi con le differenze che il tempo ti impone insomma quindi di persone non più giovani però mantieni si è mantenuto questo clima di grande capacità di comunicazione su qualunque argomento e di analisi critica delle realtà sociali politiche quotidiane in maniera sempre mai banale insomma sempre di qualche di grande interesse e con una sorta di sintonia che ti spieghi solo se pensi a come si è creato questo rapporto insomma perché perché deve insomma se no non ci sono spiegazioni particolari anche cioè sono ripresi dei rapporti dopo 10-15 anni di intervallo come niente fosse questo questo è un fenomeno non facile da 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 riprodurre da da ritrovare in altre circostanze io credo che appunto il film di Giordano è stato un tentativo in buona parte fallito però di ritornare su un tema che che rimane assolutamente fondamentale e cruciale non devo non devo spiegarlo io insomma si sa benissimo che quella quella l'attentato di Piazza Fontana è stato l'inizio o il culmine di un processo e l'inizio di tutta una serie di eventi che rientrano nella definizione generica della strage di Stato e che ha rappresentato una svolta di un processo che andrebbe spiegato soprattutto alle nuove generazioni proprio perché è venuto al culmine alla fine di un decennio gli anni sessanta di grandi evoluzioni e vivacità politico sociali che come dire hanno rappresentato anche un'elaborazione di idee non comune e non facilmente rintracciabile poi da parte di generazioni che avevano una grande speranza nel futuro e questo potrebbe essere dovrebbe essere un modo per capire che ci sono delle possibilità anche di sperare di pensare al futuro dove ci sia la possibilità di elaborare progetti e identificare diciamo le cause delle situazioni perché se no nessuno capisce perché si è in una situazione di malessere e la percepisce la situazione ma non sa spiegarsi nelle ragioni e quindi non sa spiegarsi le modalità per uscirne e dunque non ha una prospettiva di futuro per la quale lavorare insomma nella quale impegnarsi per lavorare e questo è stato un momento particolare quello del 68 e dunque spiegare anche perché è successo quello che è successo cioè perché si è interrotto questo processo a un certo punto chi ha lavorato per interromperlo e insomma questo sarebbe un elemento che dal punto di vista dell'utilità della storia per capire il presente non dovrebbe essere lasciato lasciato perdere insomma dovrebbe essere un modo per usare della storia a fini della comprensione del presente e della interpretazione di un modello di uscita dalla situazione nella quale uno si trova o ci si trova tutti avendo però appunto una un retroterra culturale e politico definito e correttamente interpretato credo che in questi casi è utile un modello generale cioè l'interpretazione generale del periodo dal punto di vista economico sociale politico ma è anche utile identificare delle figure che sono rappresentative di un modo di vivere di interpretare la realtà per uscire per semplificare il processo insomma chi non fa la professione dello storico o del sociologo insomma che per una persona normale che ha bisogno di elementi paradigmatici modelli modelli interpretativi e le persone che di un certo tipo insomma raccontare Pino Pinelli da questo punto di vista sarebbe molto utile non solo lui anche altre ma lui potrebbe avere e ha avuto e ha secondo me per chi l'ha conosciuto questo ruolo cioè il ruolo di rappresentare un modo di vivere possibile possibile perché lui lo viveva e di affrontare i problemi le difficoltà della vita in una maniera positiva in una maniera che così che 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 faccia sperare nelle possibilità di cambiamento credo che in questo momento storico particolarmente negativo e privo di questi modelli presentarne alcuni in questo senso credo che sia utile proprio anche perché non era un modello come dire omogeneo buonista come si direbbe oggi solo un buon tempone ottimista a tutti i costi cioè non era niente di tutto ciò era però una persona positiva che però che credeva che insomma che le difficoltà si potevano superare bisognava affrontarle in un certo modo ma questo secondo me sarebbe utile è utile insieme alla ricostruzione dello scenario cioè del quadro nel quale si collocano queste persone dunque da qui l'utilità di avere una memoria storica che lo riguarda che riguarda lui che riguarda la sua famiglia che riguarda la sua moglie insomma perché hanno avuto un senso e un significato sia per chi l'ha conosciuti e ha avuto la fortuna di diventare amico sia per chi ha solamente letto ha solamente verificato visto allora appunto il film di Giordana in fondo è un po' fallito da questo punto di vista perché è uscito un quadro a mio parere abbastanza contraddittorio lasciamo perdere l'aderenza alla realtà che peraltro è molto importante ma anche è venuto un film insomma secondo me che non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo in una direzione piuttosto che in un'altra insomma allora non serve molto da questo punto di vista non è una testimonianza che aiuti a capire anche perché forse insomma pretendeva troppo non lo so ma insomma adesso qui non si tratta di fare la disamina critica del film dal punto di vista cinematografico eccetera però insomma non è stata è stata un'occasione in parte perduta e invece sarebbe abbastanza utile appunto ma leggere i libri che sono scritti su Pino e su Licia come quello di Piero Scaramucci insomma e perché o il libro stesso che ha scritto che è stata la sua autobiografia diciamo negli ultimi anni di Licia cioè leggere insomma le testimonianze vere di quella realtà e anche appunto sentire quello che dicono quelli che hanno vissuto quel periodo che credo che sia utile ma appunto perché mettendo insieme questi vari componenti poi riesci a dare un quadro di qualche valore di qualche spessore da proporre appunto anche per capire le persone attraverso il contesto nel quale hanno vissuto che è la cosa insomma importante per e per spiegare l'una cosa e per spiegare l'altra insomma il contesto complessivo e i soggetti che hanno rappresentato quel periodo dunque è un periodo che non merita di non essere perso di vista insomma tutto lì che non Grazie a tutti.